Buongiorno Davido, oggi molto caldo e molte zanzare, quindi la puntata sarà particolarmente breve, lo prometto, non come breve come ieri che poi alla fine 10 minuti, no, oggi breve davvero perché parlo di una cosa sola e cerco di farlo rapidamente, però molto interessante perché parliamo di informatica teorica praticamente, teorica no, non è sbagliato dire teorica, di ricerca di informatica, poi in realtà è applicata ed è tangibile e reale, perché poi parlo di miglioramenti agli algoritmi di sorting che sono già stati inclusi in LLVM e quindi vanno già a ottimizzare il sorting in C++, quindi andiamo subito a vedere la news che viene presa direttamente da Nature, che è inusuale prendere roba da Nature per questo podcast, ma perché? Perché la ricerca che ha portato a questi avanzamenti, questi miglioramenti è stata pubblicata poi su Nature, come paper è stata pubblicata su Nature. Chi ha fatto questa ricerca è un gruppo di ricercatori in DeepMind, DeepMind che cos'è? È una società, un'azienda del gruppo Alphabet, un'azienda che Alphabet ha acquisito nel 2014, spendendo mi pare qualcosa come 600 milioni di dollari, e insomma è l'azienda che si occupa di ricerca in ambito AI per Google. E DeepMind è famosa per aver creato AlphaGo, che è l'IA che ha sconfitto il campione mondiale di Go, e poi da AlphaGo ha creato AlphaZero, che ha imparato a giocare a scacchi, anche a scioghi, oltre naturalmente a Go, da sola praticamente, senza insegnamento umano, e adesso DeepMind ha usato la stessa tecnologia per creare appunto questo sistema che scrive algoritmi, algoritmi molto efficienti, e si parla di algoritmi per ordinare dati, ordinare dati in una lista. Naturalmente ordinare dati è una funzione fondamentale nell'informatica, e questo pezzo fondamentale di molti software influisce sulla velocità e sul consumo energetico delle macchine, e quindi per questo motivo è da sempre che i ricercatori cercano di ottimizzare gli algoritmi di ordinamento, proprio anche a livello di millisecondi. Bene, il sistema che DeepMind ha creato si chiama AlphaDev, e praticamente l'ha derivato proprio da AlphaGo, trattando il problema dell'ordinamento come un gioco, una cosa che ha chiamato assembly game, perché in realtà poi le cose prodotte da questo gioco, le mosse, diciamo così, di questo gioco, sono istruzioni assembly. Quindi ha iniziato con algoritmi che ordinano 3, 4 o 5 numeri per volta. Questi sono importanti, perché solo così pochi numeri? Perché in realtà gli algoritmi molto grandi che ordinano grandi quantità di dati, in realtà quello che fanno è dividere il problema in liste minori di pochi numeri, ordinare quelle liste piccole, anche da 3, 4, 5 numeri, e poi mischiare, mergiare l'ordinamento dell'intera lista, partendo appunto da piccoli pezzi ordinati. Bene, una volta create le istruzioni assembly di questa procedura di ordinamento, i ricercatori hanno fatto reverse engineering dell'assembly e hanno creato linguaggio C++, poi includendolo nella toolchain di LLVM, che appunto è il cluster di compilatori, diciamo, che oggi è usato per C++. E il risultato sono stati algoritmi che in C++ appunto possono ordinare i dati fino a tre volte più velocemente delle versioni degli esseri umani. E questo risultato è talmente sorprendente che ha stupito anche i ricercatori di DeepMind. Non solo, Alphadev, è convinta DeepMind, può trovare dei modi per accelerare altri algoritmi, per esempio quelli di hashing, che poi sono usati anche in criptografia, quindi avanzamenti che possono essere ancora migliorati in futuro. E questi sono proprio pezzi fondamentali del software, quindi quando noi riusciamo a trovare dei piccoli miglioramenti agli algoritmi di sorting, di hashing, eccetera, poi in realtà messi insieme fanno una grande differenza e permettono appunto di ridurre costi, energie, insomma, di migliorare l'efficienza. Quindi i risultati di questa ricerca sono stati pubblicati su Nature, però in realtà appunto sono già disponibili su LLVM, perché a gennaio 2022 DeepMind aveva sottoposto questi algoritmi all'organizzazione che gestisce C++ e quindi sono stati inclusi nella toolchain. E questa è praticamente la prima modifica agli algoritmi di ordinamento C++ in più di 10 anni e il primo aggiornamento che in realtà abbia mai coinvolto un IA, il primo aggiornamento, un primo algoritmo scoperto usando la IA. Nell'articolo naturalmente viene spiegato un po' meglio come ha funzionato, come è stato possibile raggiungere questo risultato e viene spiegato appunto che si è trattato di una tecnica di reinforcement learning, no? Quindi a ogni risultato, a ogni partita, il punteggio che veniva assegnato alla soluzione proposta dall'algoritmo era pesata sia in termini di correttezza formale che anche in termini di velocità. E quindi assegnando appunto sempre dei punteggi migliori alle soluzioni proposte, la IA è stata in grado poi di ottimizzare al meglio le sue soluzioni. E in chiusura appunto si cita AlphaTensor, che era stato un algoritmo creato lo scorso anno, che aveva proposto, aveva inventato, dei modi più veloci di moltiplicare griglie di numeri. E quindi questo è naturalmente testimonia che in futuro potrebbero esserci ulteriori avanzamenti in termini di proprio efficienza di algoritmi creati o comunque suggeriti, ottimizzati dalle IA. Quindi non solo attraverso Copilot potete migliorare il codice che scrivete voi per il vostro sito WordPress, ma ci sono intelligenze artificiali che ci vanno a migliorare le prestazioni di tutti i giorni nei linguaggi compilati come C++. E insomma sono cose importanti. Quindi questo era anche tutto per oggi. Vi ringrazio per avermi ascoltato nonostante la calura. Io vi do appuntamento alla prossima puntata, di cui non so quando sarà e di cosa parleremo, ma sicuramente sarà molto calda, ma anche molto frizzante. Ciao!